Oggi come promesso continuiamo a parlare di 12 regole per la vita di Jordan Peterson in particolare analizzando le altre 6 regole illustrate dall'autore canadese Se ti sei perso le prime 6 ti invito a consultare la prima parte, trovi il link in descrizione Regola 7. Ricerca il senso, non il vantaggio personale Il settimo capitolo del libro si apre con un'affermazione che troviamo in molte altre parti di questo testo L'autore scrive Ora, di fronte a tale sofferenza, siamo spesso tentati di prendere la strada più ovvia e comoda per perseguire il piacere e fare ciò che è conveniente Si tratta di strategie illusorie che non sono appaganti e che alla fine ci faranno sentire vuoti Per questo Peterson ci presenta delle strategie alternative Quali il ritardo della gratificazione, il sacrificio ed in generale la ricerca di ciò che è significativo Nella vita abbiamo la scelta tra la convenienza ed il significato Solo il significato potrà aiutarci a trovare l'ordine nel caos dell'esistenza e a sentirci più integrati e realizzati Per puntare sul significato dovremmo puntare a rendere il mondo un posto migliore collocando questo obiettivo in cima alla nostra scala di valori Nel libro leggiamo Il significato è la via, il sentiero della vita più abbondante, il luogo in cui si vive quando si è guidati dall'amore e si parla di verità e quando nulla di ciò che si desidera e si potrebbe desiderare ha la precedenza proprio su questo Fai ciò che è significativo, non ciò che è conveniente Regola 8 Di la verità o almeno non mentire Molte persone scelgono di mentire agli altri e a se stessi È una strategia per manipolare il mondo ed ottenere ciò che vogliono È quello che fanno ad esempio venditori ed esperti di marketing senza scrupoli per influenzare i nostri comportamenti di acquisto Allo stesso modo si tratta del comportamento adottato da coloro che per perseguire i propri scopi falsificano se stessi Quando mentiamo agli altri iniziamo a vivere una vita bugia in cui cerchiamo di manipolare la realtà in modo da vedere solo ciò che più ci conviene e vogliamo ottenere Costruire una vita controllata dall'inganno è molto pericoloso L'inganno è una forma di bugia che a volte può assumere dimensioni talmente grandi da provocare conseguenze distruttive Per fortuna abbiamo una scelta alternativa La verità Non è semplice perché vedere la realtà per quello che è richiede tanto coraggio La vita è difficile, la sofferenza fa parte di essa Affrontare la realtà scegliendo la verità ci permette di apprendere e migliorare Per Nietzsche il valore di una persona è determinato da quanta verità può tollerare In questo senso non sei solo ciò che sai ma anche quello che potresti sapere se solo lo volessi Ognuno di noi ha bisogno di obiettivi concreti e specifici per limitare il caos dell'esistenza Vivere nella verità ci permette di raggiungerli più semplicemente Se accettiamo gli errori potremmo vedere i nostri limiti e problemi tentando di porvi rimedio Peterson spiega La verità riduce la terribile complessità di un uomo alla semplicità della sua parola in modo che possa diventare un partner anziché un nemico La verità rende il passato veramente passato e sfrutta al meglio le possibilità del futuro La verità è l'ultima inesauribile risorsa naturale e la luce è nelle tenebre Se la tua vita non è come potrebbe essere prova a dire la verità Di la verità o almeno non mentire La nonna regola è Pensa sempre che la persona con cui parli può sapere qualcosa che tu non sai Nessuno ascolta più gli altri È una verità, è un dato di fatto Eppure è incredibile ciò che gli altri possono raccontarti quando si sentono ascoltati Molte persone hanno bisogno di parlare per pensare e riflettere Il problema è che è sempre più difficile incontrare una persona capace di ascoltare davvero il proprio interlocutore Se iniziamo ad ascoltare qualcosa di magico inizierà a prodursi Le persone ci diranno le cose più interessanti Assurde ed incredibili E in tal modo le nostre conversazioni non saranno mai noiose La verità è che se è una conversazione noiosa è probabilmente perché non stai davvero ascoltando Se vuoi migliorare devi imparare ad ascoltare La motivazione fornita da Peterson è assolutamente logica Tu già sai ciò che sai dopo tutto E a meno che la tua vita non sia perfetta Quello che sai non è abbastanza Allora la saggezza non include ciò che già sai Ma la continua ricerca della conoscenza Questa sì che è la suprema forma di saggezza E quanto Socrate invitava a fare quando sosteneva che la sola cosa che sapeva era di non sapere Dovremmo sempre pensare che il nostro interlocutore sa qualcosa che non sappiamo Che può insegnarci qualcosa Magari anche in modo sorprendente Nella mia vita ad esempio ho imparato tantissimo dalle persone più diverse Se invece di parlare sempre inizi ad ascoltare Allora potrai migliorare Altrimenti ripeterai di continuo solo ciò che già sai L'ascolto ti permette non solo di imparare nuove cose Ma anche di costruire relazioni più forti attraverso l'empatia Regola 10 Parla con precisione Il linguaggio è uno strumento molto potente La nostra mente ed il nostro mondo sono organizzati con il linguaggio Attraverso la comunicazione A tal proposito non dovremo utilizzare un linguaggio vago ed impreciso La precisione ci permette di distinguere un piccolo problema da una terribile tragedia Essere precisi ci permette di frenare l'immaginazione Ed il suo potere di immaginare le cose più terribili Quando raccontiamo a qualcuno cosa abbiamo fatto, stiamo facendo o faremo Dobbiamo cercare le parole corrette Parole coraggiose, veritiere e precise Renderanno la nostra realtà semplice Meglio definita ed abitabile Detto altrimenti Essere preciso nel linguaggio è uno degli strumenti per far fronte alla complessità dell'esistenza E per trasformare il caos in ordine Utilizzare un linguaggio vago non ci permette di distinguere una cosa dall'altra Rendendo il mondo troppo complesso per essere gestito Anche nella comunicazione interpersonale la precisione è fondamentale Essere precisi nel linguaggio evita i fraintendimenti Riduce i conflitti ed evita i problemi con partner, figli, amici, conoscenti e colleghi Questo insegnamento è collegato ad una lezione appresa nel libro I quattro accordi di Miguel Ruiz Si impeccabile con la parola Parlare con precisione con noi stesi ci permetterà di capire dove siamo nella nostra vita e dove siamo diretti La consapevolezza della direzione che stiamo perseguendo darà maggiore significato alla nostra vita L'autore scrive Affronta il caos dell'essere Prendi la mira contro un mare di problemi Stabilisci la tua destinazione e traccia la tua rotta Ammetti ciò che vuoi Di a chi ti circonda chi sei Restringi lo sguardo Guarda con attenzione e vai avanti con decisione Sii preciso nel parlare Regola undici Lascia in pace i ragazzi che fanno skate L'undicesimo capitolo si apre con un aneddoto L'autore racconta di quando osservava i ragazzi fare skate vicino ad uno degli edifici dell'università di Toronto Questi ragazzi si divertivano a compiere salti ed effettuare acrobazie spericolate Ad un certo punto però qualcuno ha deciso di installare delle strutture per impedire loro di fare skate in questi posti Questa decisione ha non solo reso più brutto questo luogo Ma rivela una grande mancanza di comprensione dei motivi che portano questi ragazzi a compiere atti di braveria Rendendoli solo più scontenti e frustrati Nel libro leggiamo Quando qualcuno afferma di agire secondo i più alti principi per il bene degli altri Non c'è motivo di supporre che le sue motivazioni siano genuine Le persone motivate a migliorare le cose di solito non si preoccupano di cambiare gli altri O se lo fanno si assumono la responsabilità di apportare gli stessi cambiamenti a se stessi e per primi Sotto la produzione di regole che impediscono agli skateboarder di fare cose altamente qualificate Coraggiose e pericolose Vedo il funzionamento di uno spirito insidioso e profondamente antiumano A partire da queste riflessioni l'autore espone poi una serie di considerazioni personali Sul patriarcato e sulle differenze di genere In particolare Peterson spiega che la società moderna promuove l'uguaglianza tra uomini e donne E questo è un bene quando promuove pari opportunità e diritti Tuttavia l'intellettuale canadese pensa che non dovremmo spingere troppo in là questo discorso Negando l'esistenza di differenze biologiche tra uomini e donne Altra considerazione importante Nella società non è tanto l'appartenenza ad un gruppo a determinare i risultati Ma piuttosto i meriti personali degli individui Riprendendo l'aneddoto dei ragazzi che fanno skate Peterson ci spiega che è nella natura dei maschi di comportarsi in un certo modo Per diventare più forti e duri Si tratta di un processo non esente da rischi Che è in un certo senso necessario per passare dallo stadio di ragazzi a quello di uomini Nel libro leggiamo Quando i ragazzi facevano dei test e coda stavano anche testando i limiti delle loro auto La loro abilità di guidatori e la loro capacità di controllo in una situazione fuori controllo Quando mandavano al diavolo gli insegnanti stavano spingendo contro l'autorità Per vedere se esisteva una vera autorità Quella su cui si poteva fare affidamento in linea di principio in una crisi Quando hanno abbandonato la scuola sono andati a lavorare come rozzi rigattieri Quando c'erano 40 maledetti gradi sotto zero Non è stata la debolezza a spingere tanti di loro allì fuori delle aule Dove probabilmente li attendeva un futuro migliore È stata la forza In altre parole Peterson crede che non dovremmo sempre tenere lontano dal pericolo i nostri figli O condannare alcuni comportamenti che ci sembrano pericolosi Nel proteggere i più giovani non dovremmo interferire con quel processo fondamentale Che li aiuta a diventare uomini ed in particolare uomini forti Perché, secondo l'autore, nella nostra società non c'è spazio per uomini deboli o molli Peterson conclude il capitolo con queste parole Se pensi che gli uomini duri siano pericolosi, aspetta fin quando vedi di cosa sono capaci di fare gli uomini deboli Lascia i ragazzi tranquilli quando stanno facendo skateboard La dodicesima e ultima regola del libro è Se incontri un gatto per strada, fermati ad accarezzarlo Tutte le dottrine religiose hanno come principio basilare l'idea che vivere significa soffrire Gli esseri umani sono fragili, possiamo ammalarci, invecchiamo E rischiamo di crollare sia dal punto di vista fisico che psicologico È ragionevole dunque chiedersi come possiamo essere felici e sentirci realizzati in queste circostanze La verità è che senza i nostri limiti e le nostre sofferenze non potremmo esistere Peterson scrive In altre parole, senza limiti non può esistere la storia dell'uomo E questa idea può aiutarci a tollerare la terribile fragilità dell'esistenza Una fragilità con cui l'autore si è confrontato in prima persona All'età di 6 anni, alla figlia di Peterson viene diagnosticata una grave malattia delle ossa Inizia un calvario che durerà decenni e che causerà tanta sofferenza sia alla piccola amicalia Che all'autore, in quanto genitore che vede la propria figlia patire dolori, subire operazioni E non poter vivere una vita serena e normale Peterson ci spiega che di fronte alla sofferenza abbiamo essenzialmente due strade Pensare che se la vita è sofferenza allora non vale la pena esistere Rischiando di andare poi verso il suicidio o peggio, atti violenti contro gli altri Oppure abbracciare l'idea che la vita richiede dei limiti E per vivere abbiamo bisogno di diventare forti E capaci di sopportare il dolore, le malattie e la perdita La vita non è facile e momenti bui aspettano ciascuno di noi purtroppo Proprio per questo dobbiamo essere capaci di cogliere la bellezza che ci circonda E notare quando ci sono delle piccole opportunità per essere felici o sorridere Persino durante una brutta giornata Potrebbe essere una bimba che balla o magari un buon caffè O ancora qualcosa che ti diverte e che ti permette di ridere contro l'assurdità di questa nostra esistenza O ancora l'inaspettato incontro con un gatto che ti guarda, si avvicina, ti fa le fusa E per qualche manciata di secondi ti ricorda che la vita è anche meraviglia Amore, sorpresa, sentimenti, contatto e tante altre cose positive Che potrebbero compensare l'incredibile sofferenza che l'accompagna Per concludere, la vita non è affatto semplice Sofferenza, fragilità e caos sono parte integrante della nostra esistenza Il più delle volte brancoliamo nel buio e rischiamo di rimanere disorientati e perderci Per fortuna abbiamo la possibilità di fare un po' di luce su questa oscurità e mettere un po' di ordine Le 12 regole illustrate da Peterson ci permettono di vivere in equilibrio tra ordine e caos Assumerci la responsabilità delle nostre scelte e condurre un'esistenza più carica di senso Ricco di aneddoti personali e lunghe digressioni 12 regole per la vita è un densissimo volume che occupa una posizione molto originale Nell'ambito dei libri di crescita personale Peterson ci spiega che la vita è sostanzialmente sofferenza E che rischiamo di continuo di perdere il controllo ed avvicinarci al caos Ed in modo estremamente sincero l'autore non ci propone una ricetta miracolo O una soluzione magica che ci renderà di improvviso felici e risolverà tutti i nostri problemi In questo senso le 12 regole di Peterson sono dei semplici supporti Per tentare di dare più senso ed ordine alle nostre vite estremamente complicate La maggior parte degli insegnamenti del libro sono estremamente utili E per questo motivo è di sicuro un volume che tutti gli appassionati di sviluppo personale dovrebbero conoscere Scegliendo le lezioni e gli spunti più adatti al proprio caso alle proprie necessità Se vuoi approfondire sul mio blog trovi l'articolo completo dedicato al libro Che include anche una presentazione di Jordan Peterson Un personaggio molto interessante e spesso mal compreso Ed una recensione con delle mie considerazioni personali È tutto per oggi Grazie per aver guardato questo video fino alla fine Spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile Ecco un po' di cosette che potresti fare per non perderti i prossimi video Aiutarmi a far conoscere il canale ed anche aiutare altre persone che potrebbero trovarlo molto utile Lascia un bel like su questo video e abbonati al canale Attivando poi la campanella per ricevere le notifiche E se ti interessano i grandi libri e le grandi idee di crescita personale Puoi raggiungere la mia lista di contatti e ricevere subito delle risorse gratuite per migliorare te stesso e la tua vita Clicca sul link in descrizione sullo schermo per riceverle subito A presto!